professore stanno di nuovo scopulando professore stanno producendo energia a 225 volts adesso non basta più accendere un semplice lampadario voglio illuminare un intero edificio una strada un quartiere se riesco ad accumulare l'energia prodotta da un numero sufficiente di assalti e collegando i letti mi spiego a questa scatola organica noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di insomma non lo so ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti dieci coiti dieci che? scopulate piere ah è come quando si fa la conserva si mettono tutte le i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme in quella scatola lì? in questa scatola qui beh è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare in questa scatola ar force